stiamo avendo la giro ok... ma che sa per ci sottolinei che è un tavolo? no, ma non posso essere anticipati meccanicamente allora il tavolo è di meccanico le meccanico sta a 30 gradi 23 gradi ma sono fatti qui ti diventa 60 gradi e poi mi sei di regolatore ma gira e non metti un modo stai già Signori che intralciano il passaggio Spavaldi, impavidi Non hanno paura di niente Si meritano un primo piano Curvona U Rettilinio Doppia marcia Incredibile Intanto l'impavido Cammina verso di noi Ottima Tanto possiamo notare l'impavido Che prende posto la sua panchina preferita Quinto giro signori Ottima l'uscita da curva Aia Un errore sul più bello Peccato 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 Era un giro da record Sfiora il cordolo Incredibile Esegue la perfezione della chicane Erano anni che non vedevamo un pilota così Incredibile Anche la seconda Messa a metà rettilinio Si cominciano a vedere Un errore Un errore Testa coda Mannaggia Mannaggia Una velocità incredibile Una velocità incredibile Abbiamo ora di posizionarci In altre inquadrature tattiche Ed eccola qui Ed eccola qui Eccola eccola Ottima 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 Va benissimo Vediamo ora la scia Del rettilinio Incredibile signori Incredibile Cicane Seguite alla perfezione Non ci credo E si ferma Si ferma Si ferma Finito qua Un applauso É